Sono per l'Italia, coppia numero 77, Alberto Pregnolato e Evelina Gobbo. From Denmark, number 82, Mr. Bolob Jensen and Mrs. Hele Lof Jensen. From Germany, coppia numero 92, Mr. Horst Baer, Mrs. Andrea Baer. From England, number 94, Mr. Tremblay and Mrs. Tremblay. For Italy, coppia numero 99, Giordano Vanone e Katia Antonioli. Per l'Italia, coppia numero 104, Fabio Selmi e la signorina Fancello. Primo ballo per questa finale, professionisti danze standard, waltzer inglese. Per l'Italia, coppia numero 55, Regτι книge. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo al secondo ballo, tango. Grazie a tutti. 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 Per l'Italia con il numero 99, il signor Vanone e la signorina Antonioli. Grazie a tutti. 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 Molto bene, grazie.